Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi del derby. Prima però voglio parlarvi di OneFootball, la migliore app sul calcio in circolazione che vi permetterà di tenervi aggiornati su tutto il mondo del calcio a 360 gradi, di tenervi aggiornati sui risultati di tutte le partite in diretta e di guardare gli highlights di quelle partite una volta che sono concluse. Vi ricordo di non dimenticarvi di attivare le notifiche una volta scaricata l'app perché così vi arriveranno appunto tutti gli aggiornamenti in tempo reale, soprattutto sulla vostra squadra del cuore. Quindi OneFootball è la migliore app sul calcio in circolazione proprio anche per questi motivi. Potete scaricarla cliccando sul primo link che trovate nella descrizione di questo video. Mi raccomando, non ve ne pentirete. Allora, parliamo di quello che ha detto Murigno dopo Roma Vitesse. Queste sono le sue dichiarazioni. Mentre noi giochiamo in Europa, i giocatori della Lazio stanno fumando le sigarette con Sarri. In pratica ha detto questo, ok? E queste sono dichiarazioni che possono essere tranquillamente interpretate in due modi diversi, ok? Senza trarre conclusioni affrettate. Uno è che Murigno volesse semplicemente dire che mentre la Lazio avrà cinque giorni di riposo, cinque giorni per preparare la partita, la Roma ne avrà solamente due per via dell'impegno europeo, ok? E fin qui tutto a posto. L'altra interpretazione, quella forse che rispecchia di più la verità, la realtà, è che si tratta di una provocazione. Di una provocazione di Murigno che apre le porte al derby, ok? Apre le porte al derby. Io spero che queste parole di Murigno vengano appiccicate sul muro dello spogliatoio della Lazio in modo che i giocatori bianco celesti possano leggerle prima della partita e utilizzarle come arma motivazionale, ok? Perché sì, ci sono tutti i presupposti. Insieme a queste parole dovrebbero essere appiccicate anche le dichiarazioni che Murigno fece dopo il derby d'andata. Vi ricordate che cosa disse? Disse la Roma ha perso contro una squadra piccola. La Lazio ha giocato da squadra piccola, no? Tra l'altro divertente considerando che la Lazio quel derby lo dominò. Lo dominò. Lo dominò davvero perché a parte i due gol della Roma segnati sul calcio d'angolo e sul calcio di rigore completamente inventato, completamente inventato, la Roma ebbe due occasioni da gol in tutta la partita. Due. Il palo di Zaniolo al primo tempo e la parata di Reina sullo stesso Zaniolo nel secondo tempo. Per il resto, zero. E qui parliamo della grande squadra. Poi la piccola squadra, oltre ai tre gol segnati, molto puliti, senza bisogno di inventarsi alcun rigore, ha avuto diverse palle gol, soprattutto con Immobile davanti al portiere, sia nel primo tempo sul 2-0 che nel secondo tempo sul 3-2. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Oltre al fatto che quelle dichiarazioni non rispecchiassero per niente la realtà dei fatti, si sono rivelate essere anche parecchio contraddittorie, parecchio ipocrite, se così vogliamo, parecchio incoerenti. Perché se andiamo a vedere quello che è stato il percorso della Lazio e quello che è stato il percorso della Roma dopo quel derby, troviamo una Lazio che arriva a questo derby con un'identità di gioco vera e propria, con un gioco di qualità, con qualcosa che è stata costruita nei mesi. La Roma invece arriva a questo derby dopo aver dimostrato negli ultimi mesi un gioco che si basa sulla difesa e sulla ripartenza, sulla difesa e sulle ripartenze, che da stereotipo è proprio la mentalità della squadra piccola, della squadra provinciale. Quindi ripensando a quelle parole di Murigno dopo il derby, mi viene da sorridere, ecco, mi viene parecchio da sorridere. Quindi appiccicherei anche quelle dichiarazioni di Murigno nello spogliatoio della Lazio in modo che i giocatori possano leggerle, possano utilizzarle come arma motivazionale, come ho detto prima. Come fu per Rizzitelli, ricordate lo scorso anno, Rizzitelli prima del derby se ne uscì fuori nella sua trasmissione dicendo che la Roma avrebbe giocato un amichevole contro una squadra piccola. La Lazio poi quel derby lo vinse 3-0, facendo una partita pazzesca, con una cattiveria rara. Mi riesce difficile pensare che quelle parole di Rizzitelli non abbiano influenzato, non abbiano influito sulla prestazione della squadra, sulla prestazione della Lazio. Veramente mi riesce difficile pensare il contrario. Davvero. E non sto scherzando. E quindi io, la mia speranza è che possa succedere la stessa cosa anche dopo quello che ha detto Murigno, dopo il derby e dopo anche Roma-Vitesse. Questo perché alla fine è quello che conta, la cattiveria, ragazzi. Contano le motivazioni, conta la voglia. Non conta chi gioca meglio o chi gioca peggio in un derby, ok? Tutti i valori nel derby si azzerano. Si azzerano. Poi è ovvio che ci sia la squadra più forte e la squadra meno forte, ok? Magari in qualche raro caso. Ma i valori si azzerano. Conta la cattiveria, conta la testa e il cuore. Come fece Berami nella sua esultanza al gol, proprio al derby del 2008. No, lui esultò sotto la curva nord, indicando la testa e il cuore. Testa e cuore. Questi sono gli elementi che servono per vincere un derby, per provare a vincere un derby, ok? Quello. Tutto qua. Io spero che appunto la Lazio metta gli attributi, ok? Considerando che si sono tra l'altro capovolte le gerarchie. La Lazio negli ultimi due anni era la squadra che ha beneficiato di più dei gol nei minuti di recupero. Adesso è diventata la Roma quella squadra e la Lazio invece è la squadra più penalizzata dai gol nei minuti di recupero, ok? Il gol preso contro il Napoli, il gol preso contro l'Atalanta, il gol preso contro l'Udinese. La Roma, per esempio, nelle ultime partite ha segnato sempre nei minuti finali, sempre, nelle ultime sei partite, ad eccezione di quella contro l'Atalanta. Quindi bisogna considerare anche questo, bisogna considerare anche questo, ma ripeto, il derby è sempre una partita a sé. I valori si azzerano, lo ripeto. Serve prepararla bene, non tanto tatticamente, questo è un consiglio che mi permetto di dare a Sarri. Non tanto tatticamente, ma mentalmente. Il derby va preparato mentalmente. Ma io credo che Sarri in realtà già lo sappia, perché all'andata si è visto proprio questo. Si è visto una Lazio che era più sul pezzo e la mia speranza è quella anche per questo derby qui. Ditemi qualche cosa ne avete state nei commenti, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!